Il signor Quantorena, secondo lei è ancora possibile compiere un'impresa come la sua di vincere i 400 e gli 800 metri, ora che lo sport è sempre più competitivo e specializzato. Però io credo che sì, che è possibile che un'atleta in futuro possa farlo, incluso meglio che io. Però è molto complicato, molto difficile. Talvez anche abbia che fare il'orario di maniera consecutiva come in mia epoca. Che prima correre tutte le serie di 800 metri plani, poi correre le 400 metri. Oggi i giorni i hori si cruzano. Hai serie eliminatoria di 400 metri, serie eliminatoria di 800 metri. Lo sento, è molto complicato. Però sì, io credo che sì, che avendo fatto i miei record per un sero umano come io, altro lo può fare e credo che è molto meglio. I paesi caraibici con la Giamaica con Bolt, Powell e Blake, Cuba con lei e Pregnale e Tobago e altri paesi sono i principali protagonisti dell'atletica leggera e della velocità. Mi sa spiegare il motivo per cui c'è questa cultura della velocità? È un problema genetico, è un problema genetico, è un problema di tradizione, dei poli del Caribe che sempre hanno destacato la velocità come Jamaica, come Cuba, come Trinidad, come las Bahamas. Incluso ora nel Mondial di Pekin praticamente tutte le carriere di velocità sono giocati per i atleti del Caribe, Norte e Centroamérica. Ti faccio un esempio per che vedo che è similar. In Africa, i Keniani, nel medio fondo, stanno destacando anche in la Jabalina, ha giocato anche un Jabalino, in Jabalino, in Jabalino, in Llego, hanno tenuto anche 400 metri con obstacoli, 400 obstacoli, 400 con vallas. È a dire, che è la genetica che fa possibile che la gente di raza negra abbia questa velocità, questa massa muscolare veramente molto attiva, questa massa muscolare lunga, come diciamo noi, e credo che sì. È una peculiarità molto genetica dei poli del Caribe, dei poli realmente afro, afrodescendenti, del Caribe e, per esempio, in Africa ci sono i etiopi, ci sono i keniani, che sono geneticamente, parlando molto buoni nel medio fondo, nel fondo e nella carriera di largo aliento. Lei crede che sia soltanto la ragione genetica, oppure è anche un'etica sportiva che, per esempio, a Cuba c'è stata una forte attenzione per l'educazione sportiva, che è un veicolo per insegnare ai giovani probabilmente la disciplina e anche la resistenza alla fatica? Claro che sì. In primo lugar, anche perché hanno un programma molto speciale con i bambini e i giovani in le scuole. E hai una cultura, hai una etica del sacrificio, del compromiso, della partecipazione nel deporte, però lo fondamentale è la scuola. Io ho detto ayer in Verona, antes di ayer in Verona, perdon, che se vogliamo apostare per un deporte grande, un deporte che realmente si desarrolle, hai che apostare in la scuola primaria, la secundaria, la educazione fisica, e hai che dire a tutti i giovani che possono fare molti risultati, se hai compromisos, se hai dedicazione, se hai passione per il deporte. e un mensaggio sempre che le doy a tutti i giovani, no a la droga, no a nada che tenga che vero con cose che ti den algo che non è del tuo corpo. Non utilizzare nunca la droga, e questo è una responsabilità della famiglia, dei estamenti deportivi, del comitato olimpico, della società e di tutto il mondo. Quindi, almeno in parte, si può ritenere che i successi cubani nello sport siano un successo anche della rivoluzione castrista? Certo che sì, io dico che della rivoluzione cubana in generale, io mi sento molto orgoglioso e mi sento veramente molto complace di essere un prodotto della rivoluzione cubana, della educazione fisica, del deporte per tutti, del deporte masivo, del derecho di tutti a partecipare nel deporte, e questo lo abbiamo molto arraigato in nostro coraggio, realmente io le dedico sempre, le dedico e le dedicaré sempre tutte le medalli, tutte le esforzano a la rivoluzione cubana, a Fidel, a Raul, e a tutto lo che ha sido possibile realizzare nel movimento deportivo cubano. Questa è una domanda forse un po' scomoda. Perché molti atleti invece decidono di lasciare Cuba? Vedono nello sport una possibilità per lasciare Cuba? No, non è una pregunta incomoda, è una pregunta che realmente sempre abbiamo contestato della siguiente maniera. A noi ci interessano i quelli che si restano in Cuba, i quelli che sono 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 difendendo il processo deportivo cubano. Esas persone che se vanno hanno altri interessi economici. Quieren tener dinheiro, quieren tener muchas propietà, muchas cose, che realmente noi, che anteponiamo noi a questa realtà. Ilpe che siamo il prodotto di un processo deportivo autentico. Il cari d'altro nostro pollo, il cari di nostra gente, di nostra famiglia, di nostra rivoluzione, suple, realmente, quella ambizione che possono avere altri di essere detrò del dinero. Io realmente Sotomayor, Ana Fidelio, Stevenson che fortunatamente muri, tutti i grandi campeoni stiamo in Cuba defendendo a Cuba e tratando di che il deporte sia molto migliore. Abbiamo fatto molti cambiamenti, abbiamo fatto molti cambiamenti per i nostri atleti, hanno un po' di euro che vengono in i mondiali, hanno realmente benefici di tutto tipo e io credo che queste cose che stiamo facendo poco a poco va a creare le condizioni per che i nostri atleti si arraighe molto più nel nostro paese. Come dice Fidelio in una volta, non potremo oponere al dinero che offrono, per esempio, 60, 70, 80 milioni a los peloteros, a los boxeadori, per esempio, a alcuni voleibolisti, però stiamo facendo transformazioni per che i nostri atleti realmente si arraicino e possano essere in Cuba e possano realmente dire che sono e rappresentano la Revoluzione Cubana. Ok, proprio collegandomi con questo argomento, volevo chiedere, lei ha sempre avuto una forte posizione politica, volevo chiederle se vede positivamente questo riavvicinamento tra Raul Castro e Obama in generale con l'Occidente. Claro, claro che sì. È un cammino largo, no? Abbiamo guisato la bandera, abbiamo ora embattato tanto in Cuba come in gli Stati Uniti, è un cammino largo che hai che ricorrer. Decir che sempre Cuba tuvo una posizione abierta a discutere con gli Stati Uniti di ugual a ugual, senza condizioni di nulla tipo. Ja, per esempio, abbiamo avuto una victoria quando Cuba fu borrata da la lista dei paesi che auspician il terrorismo. Un paese come il nostro che porta medici, sportisti, sportivi, non può essere un paese che auspice il terrorismo. Queda ancora il embargo, il bloco, che è una cosa che è criminala, che non è realmente qualcosa racionali, è irracionali totalmente. Queda la discusione della base naval di Guantanamo, che è anche nostra, e che è usurpata per gli Stati Uniti, e che c'è molta cosa che resolvano. È un cammino largo, però è un cammino che debiamo verlo come una situazione che deve andare a risolvere poco a poco, con una relazione civilizzata, respetuosa, entre ambos paesi. E io sì penso, credo, profondamente, che sarà un beneficio, tanto per Cuba come per gli Stati Uniti. Lei, riguardo a questo, pensa che Obama sia un buon interlocutore, un interlocutore aperto a... Ha sido molto valiente e molto intelligente a farlo. Se revisiamo la storia, sempre, sempre Cuba è stato disposto a discutere con gli Stati Uniti di uguale, di tu a tu, sentato a la mesa, senza condizioni di alcun tipo. E, bene, se produjo ora con Obama, questo debio, in mia opinion, averse producido hace molto tempo, possiamo resolver tutte le differenze a través del dialogo, della conversazione, di tutte le cose che potrebbero essere positivi per ambos paesi, e questo è lo che stiamo facendo in questo minuto. E Obama, ha fatto la valentia di farlo, Raúl ha fatto la valentia anche di llevarlo a questo il 17 di dicembre, quando si annunciò il restituzione delle relazioni diplomatiche, la liberazione dei cinque erosi cubano che stavano prigionieri nei Stati Uniti. E queste sono cose che che si vanno a andare reformulando, che si vanno a andare a fare poco a poco, senza apuro. Però hai che tenere in conto lo seguente, non lo faremo facendo concessioni di ningun tipo, dal punto di vista di nostra dignità, di nostra libertà, di nostro sistema social, perché ogni paese e ogni paese escoge il suo sistema social e tiene ese derecho di escoge il suo sistema social. Noi non vogliamo che nessuno cambia nada, sino che respeten la maniera in cui Cuba fa le cose e possiamo tener sempre, non solo con gli USA, ma con quali relazioni cordiali, amistose e realmente beneficiosa per amici. Grazie. 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 Grazie.